bentornati strumento sfumino come possiamo vedere si tratta di uno strumento di disegno si comporta a tutti gli effetti come un pennello quindi ha uno spessore una durezza ed è possibile abbinargli una forma vediamo che possiamo scegliere i metodi di fusione possiamo scegliere l'intensità io vi consiglio di non salire tanto sopra il 30 per cento questo pennello vedete non serve per colorare come uno strumento di disegno normale bensì vedete che se noi andiamo a pennellare quello che succede è che sposta i colori della nostra immagine un po come se stessimo lavorando a pennello sopra un acquarello ancora fresco se noi introduciamo pittura dito quello che succede è che introduciamo il colore di primo piano dentro nella nostra pennellata vedete abbiamo inoltre un campione da tutti i livelli campione da tutti i livelli serve per andare a scrivere su un nuovo livello in maniera da mantenere inalterato il nostro livello sottostante vedete le mie modifiche sono soltanto sul livello 1 come sempre spero che il video vi sia servito fatemi sapere nei commenti se avete trovato un'applicazione pratica